Ecco, siamo all'inizio dell'anno nuovo, 1999, l'anno del Padre. Prima di iniziare vorrei sapere come avete passato il Capodanno. Tutti bene, tutti bene. Lo speriamo perché le nostre feste cristiane minacciano di essere scristianizzate. La Santa Madre Chiesa all'inizio cristianizzò le feste pagane. La festa del Natale era la festa del Sole e venne cristianizzata con il Natale del Signore. E così tutte le altre feste pagane vennero cristianizzate. Adesso c'è il tentativo inverso. Ecco perché c'è l'impero del maligno. Si cerca di scristianizzare, paganizzare le feste cristiane e un ritorno al paganesimo. E questo è preoccupante. Perché anche noi siamo tentati di paganizzare le nostre feste. Indulgendo a modi di vivere le feste, a modi pagane. E' sempre il maligno che cerca di pervertire ciò che è sacro, di allontanare i figli di Dio e di rottarli verso il mondo dove egli impera. E così che tante feste nostre, la festa del Natale, viene vissuta paganamente. La festa dell'inizio dell'anno consacrato alla maternità divina di Maria, viene condotta all'insegno del baccano, dei botti, danze, veglioni, tutta così roba pagana. Ed è che noi cristiani siamo dei sincretisti, cerchiamo di unire ciò che è di Dio con ciò che è del mondo e non siamo né carne né pesce nelle nostre feste. Invece dobbiamo conservare la sacralità alle feste. Per cui io domandavo, abbiamo vissuto un Natale pagano o un Natale cristiano? Abbiamo vissuto un Capodanno cristiano o un Capodanno pagano? Abbiamo pregato nella notte? Oppure abbiamo ballato, scherzato, giocato, dimentichi di Dio? Ognuno di noi deve fare l'esame di coscienza. Come è iniziato l'anno? Sia all'insegna di Dio o all'insegna del mondo? Perché questo è importante per noi. È il primo giorno che dà, così, la prima impressione, la prima impronta a tutto l'anno. E se l'anno è incominciato con un fare mondano, può darsi che continui con un fare mondano. Se l'anno ha avuto l'impronta di un inizio cristiano, può darsi che questa impronta persevere per tutto l'anno. Non parliamo del Capodanno o del Natale diabolico, perché anche questo, adesso c'è, è imperversa, soprattutto nella gioventù. Dove ci sono i locali aperti, c'è una forma di necrofilia, nel senso di un amore alla morte. Amore alla morte, l'amore alle tenebre, la tendenza all'orrore, soprattutto attacca i giovani. Ci sono tanti locali dove c'è il culto della morte, il culto dell'orrore, il culto del nero. Ci sono tanti pubbi aperti dove c'è la cattiva abitudine di presentare le bevande alcoliche nei testi dei morti. Di servire i pasticcini nelle bare, dove tutti i muri sono impastricciati di scritti neri. Dove c'è una musica satanica, dove si pratica il tatuaggio, dove si vendono magliette con horror. Questo è motivo anche dell'accabriccio. Il fatto però è uno, quello che mi ha impressionato, è che c'è molta gente che si raduna. A Politiama c'era, me l'ho detto, meno, c'era tanta tanta gente. Che segno è questo? È il segno della fuga dalle famiglie. È il segno della solitudine che attanaglia gli uomini e li riunisce, perché l'uomo di oggi ha paura di rimanere solo. È l'indizio della solitudine che travaglia il cuore dell'uomo e cerca di ritrovarsi insieme tra i botti, i baccani, che possono far dimenticare la solitudine interiore. Ritrovarsi insieme. Quanti indizi cattivi, in cui ci si accorge che la fede viene meno, che la fede viene meno e che di nuovo il paganesimo entra in mezzo a noi. C'è il paganesimo esteriore e il paganesimo interiore. Quando viene obliterata la figura di Dio, quando non si crede più e quando psicologicamente ci si sente fragili e ci si appiglia a questo o a quello, anche alla morte. È il nemico che entra, impera e dà un gusto nuovo, il gusto dell'orrore, il gusto del nero, il gusto della morte, il gusto dei testi umani, il gusto delle barra non morto, il gusto delle magliette nere. Fratelli e sorelle, siamo appunto nella tentazione della necrofilia, intesa nel senso l'amore per la morte, l'amore per i morti, per il mondo delle tenebre. Il Signore ci ha chiamato alla luce, Gesù è il sole che illumina la vita, dobbiamo amare la vita, Cristo è venuto a portare la vita e contro questo andazzo in cui il mondo viene cacciato dal maligno che domina in questo mondo, che illude gli uomini, che li imbroglia per ucciderli, dobbiamo reagire. intanto purificiamoci nella mente e nel cuore e se abbiamo noi una mentalità che inclina quella del mondo, se ci siamo in qualche maniera lasciati andare in un Natale poco cristiano e in un capodanno un po' mondano, purificiamoci questa mattina, rettifichiamo la nostra condotta, la nostra visione della vita e imploriamo dal Signore l'amore alla vita, l'amore alla luce, l'amore alla verità, perché il maligno è dietro di noi, colpisce tutti, soprattutto la gioventù che è così trascinata verso il mare, verso le tenebre, verso l'imbroglio. Signore, mio Dio, in questo momento io ti prego la tua acqua di purificazione scenda su di noi e mette in fuga tutte le forze del male che ci attanagliano, scenda l'acqua della purificazione nella nostra mente perché risplenda la verità nel nostro cuore perché trionfi l'amore, l'amore perché attorno a noi ci sia la pace, quella pace che tu sei venuto a portare sulla terra. Signore, dichiariamo che questo anno nuovo sia un anno per noi cristiano in cui noi lottiamo, lottiamo per far trionfare i valori della vita, dobbiamo lottare fratelli e sorelle perché la pace è frutto di lotta, una lotta continua, contro le forze del male, dobbiamo lottare perché le tenebre non occupano la luce, non estingono la luce, dobbiamo lottare per il trionfo della verità, della giustizia e della pace. sia o Signore Gesù che si è venuto a portare la pace tra gli uomini, la luce e mezza la tenebre, fa che quest'anno sia un anno nuovo, un anno che si riporti al Padre da cui scendogli bene ed è per questo che stamattina vogliamo purificarci e vogliamo prima di purificarci invocare il tuo Santo Spirito. Grazie a tutti. 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 Salve Madre Santa, tu hai data la luce re, che governi il cielo e la terra per i secoli in eterno. Preghiamo. O Dio che nella virginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, perché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo figlio. Egli è Dio e viveregna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Carissimi, chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'Anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi. E non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce. Così, state saldi in Lui, come essa vi insegna. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia, quando apparirà e non veniamo svergognati da Lui alla sua venuta. Parola di Dio. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei inviarono da Gerusalemme e sacerdoti e le viti ad interrugarlo. E Gli confessò e non vedo, e confessò, io non sono io e Cristo. Allora gli chiesero, che cosa dunque sei Elia? Rispose, non lo sono, sei tu il profeta. Rispose, noi dissero dunque chi sei. Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Come disse il profeta Isaia. Essi erano stati non dati da parte dei parisei. Lo interrogarlo e gli dissero, perché dunque batteggi se tu non sei il Cristo. Medianne il profeta. Giovanni rispose loro, io battezzo con acqua. Ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me. Al quale io non sono degno neanche di sciogliere il legaggio del sandano. Questo avvenne in metania al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Alleluia, alleluia, alleluia. Per le parole di questo Santo Vangelo siano cancellati i nostri peccati. Bene, fratelli, la liturgia di oggi fa tutto convergere su Cristo, centro dell'universo, centro della storia, centro della nostra vita, su Cristo, Gesù, Salvatore dell'uomo. Fuori di Lui non c'è salvezza. Nella prima lettura è Giovanni che dice il padre conosce il figlio erodato agli uomini. Chi riconosce il figlio riconosce il padre, ma chi non riconosce il figlio non può avere accesso al padre. E Gesù, la parola che Dio ha dato all'uomo come risposta all'uomo che cerca la verità, che cerca la felicità, che cerca la via, ha dato Gesù. Gesù come fu chiamato dall'angelo, fin dall'inizio, secondo il Vangelo che abbiamo letto ieri. E Gesù, l'unica parola del padre, che riconosce Gesù, ha la via aperta verso il cielo, verso Dio, verso la salvezza, verso la luce, verso la vita. Chi non accetta Gesù si pregruda la via verso il cielo, resta nelle tenebre e nella morte. Questa è la parola di Giovanni, questa è la parola che ci testimonia la verità che dobbiamo accettare, beati coloro che hanno ricevuto l'unzione e riconoscono questa verità. Il padre punta verso il figlio e mostra il figlio. Nel Vangelo è Giovanni che è il più grande degli uomini, sta all'apice di tutta l'umanità ed egli ha dito a Gesù come l'unico Salvatore. Sei tu il Cristo, io non lo sono, l'unto è un altro, l'unto è uno che sta in mezzo a voi che voi non conoscete, io vi battezzo in acqua ma c'è quest'uno che è in mezzo a voi egli vi battezzerà in fuoco e Spirito Santo e lui il Cristo e lui il Salvatore. Ecco la voce di Giovanni che rappresenta la voce dell'umanità che cerca il Signore che ha dito Gesù unico Salvatore il cielo e la terra convergono verso Gesù e ci ha dito in Gesù l'unica salvezza in mano agli uomini vogliono scardinare dal cuore degli uomini questa verità e soltanto il maligno che imperi in questo mondo che vuole cancellare questo nome perché questo nome è la sua rovina e vuole portare la rovina agli uomini invece oggi il Signore ci dice Gesù è la vostra salvezza non eliminate Gesù è il Padre che ce lo dice ed è Giovanni che ce lo dice è il cielo che ce lo dice e la terra che ce lo dice è Dio che ce lo dice ed è l'umanità buona l'umanità illuminata per bocca di Giovanni che ce lo dice è Gesù l'unica salvezza dell'uomo è questa verità centrale che noi dobbiamo accettare che dobbiamo difendere che dobbiamo innanzitutto comprendere e gustare è per questo che Giovanni ci parla dell'unzione voi avete l'unzione l'unzione dello Spirito per cui potete comprendere questa verità e accettare questa verità e l'intelligenza della verità l'unzione dello Spirito noi battesati siamo stati unti di Spirito Santo e abbiamo l'intelligenza aperta per comprendere questa parola abbiamo il cuore aperto per accettare questa parola ma guai quando l'unzione non funziona più quando invece il maligno ci seduce noi abbiamo l'unzione cioè l'intelligenza della verità abbiamo la mente aperta dallo Spirito a conoscere la verità ed è questa verità che ci rende liberi che ci realizza guai a quelli i quali si chiudono a questa unzione guai a quelli che non l'hanno ricevuta perché non possono comprendere la verità la verità di Gesù che è l'unica salvezza dell'uomo ma noi abbiamo compreso che Gesù è la verità ed ecco allora la testimonianza nostra che deve unirsi alla testimonianza del cielo alla testimonianza dell'umanità cioè alla testimonianza del Padre alla testimonianza di Giovanni devono essere la nostra testimonianza dobbiamo testimoniare noi che abbiamo ricevuto l'unzione che Cristo è il Signore che Cristo è la salvezza che fuori di Lui non c'è salvezza oggi dobbiamo testimoniarlo oggi che il mondo sotto la spinta del maligno cerca di tradicare dal cuore dell'uomo Cristo unica salvezza cerca di sradicare la luce per rimettere le tenebre di sradicare la grazia per rimettere il peccato di sradicare la vita per rimettere la morte fratelli e sorelle il nemico è presente in questo mondo e seduce tutti gli uomini nella verità nella fedeltà alla parola di Dio dobbiamo aderire a Cristo personalmente ma aderire realmente a Cristo con tutta la mente con tutto il cuore e con tutte le opere cioè vivere di fede di speranza e di carità e dobbiamo a denti stretti difendere questa nostra posizione contro il mondo che cerca di eliminare Cristo dalla coscienza degli uomini contro una società che vuole sradicare Cristo dal cuore degli uomini una società permeata dal maligno condotta dal maligno attraverso strutture contorte attraverso un commercio sconforto e ritorto dove si insidia e si insedia il nemico per poter insidiare gli uomini fratelli e sorelle noi siamo nella verità difendiamo la nostra verità difendiamo Cristo patrimonio nostro e siamo luce di Cristo in mezzo e la tenebra guardate ogni tanto io osservo l'osservatorio che sta in alto e vedi il maligno che serve in mezzo agli uomini lo vede là dove nessuno lo vede dove tanti credono che non ci sia è là è là che egli manovra per sradicare Cristo dal cuore dell'uomo per sradicare Cristo dalla società per sradicare Cristo unica salvezza dell'uomo e riportare l'uomo verso la perdizione è il tentativo estremo che fa il maligno in questo scorcio in questo ultimo anno del secondo millennio prima che si entri nel terzo millennio noi siamo i fedeli di Cristo e dobbiamo lottare lottare per non farsi sorprendere nel sonno dal maligno non lasciarci adescare dal maligno che usa tutte le arti per farci così colorare di luce ciò che tenebra per mascherare la tua presenza dobbiamo essere attenti ed essere saggi avere in sala la sapienza per comprendere dove è il bene e dove è il male dove è la verità e dove è l'errore e lottare lottare per noi per le nostre famiglie per i nostri figli perché il maligno è all'opera e dobbiamo avere in bocca Gesù domani celebraremo la festa di Gesù ieri abbiamo celebrato la festa di Maria e l'angelo aveva pronunziato il nome Gesù fu battezzato Gesù cioè fu circonciso e gli fu posto il nome Gesù secondo quanto era stato chiamato fin dall'inizio fin dall'inizio Gesù benedetto venne chiamato Gesù questa parola uscì dalla bocca del padre il primo a chiamarlo Gesù fu il padre e consegnò questo nome all'angelo il quale lo rivelò a Giuseppe lo rivelò a Maria lo chiamerete Gesù e gli fu posto il nome di Gesù prima che noi uomini questo nome fu pronunziato dal padre fin dall'inizio e furono gli angeli santi a portare questo nome sulla terra Gesù è il salvatore oggi il maligno vuole sradicare Gesù ma noi dobbiamo ribadire Gesù dobbiamo pronunziare il nome di Gesù non soltanto con le labbra ma con il cuore nella fede dobbiamo avere Gesù dentro di noi fuori di noi dobbiamo ribadire che Gesù è Gesù il salvatore l'unico salvatore nostro l'unico salvatore del mondo chi riceve Gesù riceve il padre e ci riceve la vita chi non riceve Gesù è nella morte è nella morte senza rimedio non c'è salvezza fuori di Gesù questa è la parola d'ordine fuori di Gesù nessuna salvezza per nessuno perché il padre ha posto la salvezza di tutti Gesù nel cuore nel cuore dove egli dimora e devi dimorare nella fede e nella grazia Gesù anche sulle labbra questo nome dobbiamo pronunziarlo sempre nelle ore della desorazione nelle ore del dolore nelle ore del dubbio nelle ore della lotta perché il nome di Gesù è medicina nelle nostre malattie nei nostri dubbi perché il nome di Gesù è dolcezza per chi crede perché il nome di Gesù mette in fuga il maligno perché il nome di Gesù è forza che abbatte ogni potenza nemica nel nome di Gesù si piega ogni genocchio in cielo in terra in ogni luogo tutto il cielo si piega al nome di Gesù lo adorano e gli angeli di Dio è scritto nelle scritture gli angeli del cielo i cremini i serafini i troni le dominazioni le virtù e le potestà i principati gli arcangeli e gli angeli i ventiquattro miliardi i quattro esseri viventi e tutti gli spiriti celesti si piegano al nome di Gesù e gridano a Gesù anche noi qui nella terra pieghiamo le ginocchia davanti a Gesù e lui adoriamo il padre che lui ha posto la salvezza del cielo e della terra fratelli e sorelle io vorrei ripetere questa parola che non è una parola anzi è la parola la parola di vita che deve dimorare nella nostra anima nel nostro cuore deve risonare sulle nostre lambra e dobbiamo predicare dovunque Gesù pronunziare il nome di Gesù ribadire il nome di Gesù gridare il nome di Gesù perché parole di bestemmia escono dal bocchio degli uomini perché il mondo è pieno di bestemmia e in mezzo alla bestemmia dobbiamo fare risonare il nome augusto di Gesù il nome della luce che dirà della tenebre il nome della vita che fa risorgere i morti che deve la morte dalla faccia della terra fratelli e sorelle non voglio fare una predica ma voglio dare il mio cuore a voi in questo momento voglio consegnarvi Gesù salvezza Gesù 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 ricevetelo questo Gesù dentro il vostro cuore sia la vostra forza la vostra luce sia la vostra guida nel cammino sia la spada con cui voi potete sconfiggere il nemico sia il bastone di viaggio verso il cammino della vita Gesù nella mente Gesù nel cuore Gesù nella lambra Gesù nella vita perché Gesù è il figlio di Dio è il salvatore dell'uomo fratelli e sorelle non mi ingannino gli uomini non mi ingannino il nemico non mi inganno questa società costruita dal maligno su basi false non mi ingannino gli uomini che sono ministri del maligno ma ricevete l'unzione dello spirito il santo patesimo che avete ricevuto sia luce per la vostra mente sia forza per il vostro cuore il santo patesimo rivive in voi voi avete ricevuto il tatuaggio divino sì il tatuaggio divino oggi il nemico cerchi in alcuni elementi di fare il tatuaggio quanti giovani tatuati che segno è questo che segno è questo è il segno del carattere indelebile è una sboffia del nemico il patesimo imprime in noi il carattere indelebile il sigillo dello spirito santo noi battezzati abbiamo questo sigillo sempre e dovunque perché indelebile e il maligno cerca di rendere suoi servi attraverso un segno visibile il tatuaggio è il segno del nemico tante volte il nemico non raggiunge lo scopo perché i giovani nostri non sono coscienti ma è il segno del nemico è il segno del questo tatuaggio che è quasi indelebile è il segno visibile dell'appartenenza a lui dell'appartenenza alle tenebre è come una distruzione del segno indelebile del battesimo del segno interiore fratelli e sorelle tutto converge per farci comprendere bene la lotta che stiamo ingagliando e che stiamo così conducendo avanti la lotta tra le tenebre e la luce la lotta tra il corpo di Cristo mistico e il corpo del diavolo mistico come lo chiama Sant'Agostino è la lotta tra i tuoi regni ma il regno della luce deve trionfare sul regno della tenebre e nel nome di Gesù che noi dobbiamo combattere e nel nome di Gesù noi trionfaremo avremo i nostri martiri avremo i nostri veriti avremo i nostri morti ma la battaglia è sicuramente vinta da Cristo perché lui è il vittorioso sia questo un anno di lotta contro il male per il trionfo del bene sia questo un anno in cui ripetiamo il nostro amore al Padre che ci ha dato Gesù e nel nome di Gesù noi vogliamo lottare perché il mondo guardi il cielo perché il mondo continua il suo cammino verso il Padre perché questo anno sia un anno di ritorno alla fede un anno di ritorno al Padre che per amore nostro ha mandato il suo figlio diretto ameno signore rompi il gioco del maligno tu sei venuto a rompere il gioco come dice il profeta il gioco è che grava sulle nostre spalle e noi siamo liberi perché questo gioco è stato infranto signore signore ci metti in guardia contro coloro che vogliono pervertirci che vogliono farsi vedere una cosa per un altro attenti apriamo gli occhi perché il cuore dei semplici può essere distorto noi abbiamo la verità siamo i figli della verità e la luce della verità deve sempre risplendere nella nostra mente nel nostro cuore prima della lettura delle intenzioni che sono poco questa mattina vorrei presentarvi questo foglio e l'ammen all'inizio c'è una poesia bella è nato il bambino Gesù dopo il buon natale felice anno nuovo e poi c'è un articolo mio è una lettera che io invia invia tutto il gruppo sulla preghiera vera qual è la preghiera vera il padre cerca adoratori veri non adoratori falsi e l'anno del padre dobbiamo ritornare alla preghiera vera quella che si consuma dentro il cuore alla preghiera personale tutti i danni nostri dipendono dalla mancanza della preghiera personale se noi ci ci inginocchiamo davanti al padre ne chiuso dalla nostra camera e passiamo come Gesù le notti in preghiera allora tutto cambierà la forza nostra è la preghiera personale nei nostri gruppi è la preghiera personale che assicura così il fervore qui è scritto la mancanza della preghiera personale può portare all'esopramento spirituale la mancanza di entusiasmo il raffreddamento della carità fraterna l'intipidimento della nostra vita il decadimento dei carismi dipendono dalla mancanza della preghiera personale e allora ecco la consegna che io do a tutti i miei cari fratelli ritorniamo alla preghiera personale impieghiamo del tempo per ritrovarci con il padre ne chiuso dalla camera tu a tu nel profondo del cuore è là che sgorga l'acqua viva è là che Gesù ci darà bene l'acqua sua e ci riseta è là che avviene l'incontro dell'uomo con Dio e là che dobbiamo ritornare e allora la vita comunitaria e la preghiera comunitaria avrà una forza nuova e un volto nuovo poi c'è un un trafiletto dove si attira l'attenzione attenzione ve lo leggo tengo a precisare quelle che più volte ho detto anche dall'altare glielo dico sempre da tanto tempo ma voglio precisarlo primo nessuno è autorizzato a fare preghiere come facente parte del mio gruppo su qualsiasi persona né tanto meno a fare preghiere di liberazione o di esorcismo attenti agli imbrogioni cioè nessuno è autorizzato a nome mio ad andare in giro per fare preghiere preghiere che di liberazione tanto più mi manda padre Matteo sono il braccio destro di padre Matteo io sto vicino a padre Matteo è lui che mi manda io non mando nessuno secondo punto nessuno è incaricato da me a fare raccolte in denaro o in natura per conto mio o per conto di altri attenti ai truffatori ci sono quelli i quali si spacciano come i miei collaboratori e raccolgono a nome mio bussano a tante porte raccolgono io non autorizzo nessuno nessuno è autorizzato a fare raccolte a raccogliere raccogliere denaro quando qualche persona vuole dare un'offerta alla faccia personalmente nella luce dello spirito per quell'intenzione che vuole ma io non autorizzo nessuno a fare alcuna raccolta nessuno deve andare a nome mio da questo da quello a dire raccolgo per padre Matteo oppure per conto di padre Matteo io lo smentisco in pubblico perché ho sentito tante voci che non vanno bene voci che possono anche danneggiare per cui lo avverte caldamente io lo avvertite tante e tante volte lo avvertite anche dall'altare e il benissimo avvertimento è stato fatto dal parroco per conto suo anche dal parroco qui di passatorigeno per conto suo perché ci sono i truffatori che girano comunque io non autorizzo nessuno e sappiatelo bene quel poco che il Signore ci manda ci lo manda lui ma noi non facciamo raccolte e non deleghiamo nessuno a raccogliere denaro terzo punto nessuno è imitato a lasciare un'offerta anche minima per preghiere di intercessione cioè quando si prega si prega come Gesù vuole gratis avete ricevuto gratis date per cui non si accettano offerte anzi si sconsiglia di dare offerte per preghiere ricevute chi vuole lasciare l'offerta di i poveri se vuole fare una lemosina la faccia pura ma non perché sono state fatte delle preghiere ossia una preghiera con cui noi quasi ci si disobbliga dando una lemosina questa preghiera non va noi diamo gratis quello che abbiamo ricevuto tantomeno possiamo ricevere denaro per preghiere che facciamo la preghiera è un atto libero per cui si prega di distogliere questo nesso tra preghiera e denaro la preghiera è libera non è soggetta a denaro non si dà denaro per la preghiera questo è bene che noi lo ripariamo chi vuole dare un'offerta la dia pure ma non è legata alla preghiera non è legata alla preghiera vogliamo essere puri al cento per cento su questo punto puri al cento per cento di questo punto lo riparisco qui solennamente davanti a tutti ancora si è poi scherzare con il fuoco che cosa è successo un gruppo di giovani è venuto da me è stata una giornata durissima venivo da Ragusa era arrivato qui dopo le 11 e ho trovato un gruppo di 10 11 ragazze in preda al panico avevano fatto sedute spiritiche si erano manifestate tanti segni che li avevano messi in paura volevano un esorcismo ho fatto una preghiera sono venuto l'indomani ho fatto una seconda preghiera ho visto anche la medium con lei che agiva poi non sono la sorta di queste ragazze è una scuola in un istituto superiore di Palermo io voglio prendere lo spunto per dire che questi scherzi non si fanno è il nemico che va a fare questi scherzi scherzi di cattivo gusto che possono aprire le porte al diavolo il minimo che succede in questo ragazzo questi ragazzi è lo sconvolgimento mentale l'inettitudine alla vita si raffredda il cuore si ottunde l'intelligenza questi ragazzi poi si arrestano anche nello studio e raccomando a questi ragazzi di non dare a questi pub ci sono i pub satanici mi hanno riferito di pub dove come ho detto si beve nei testi umani si beve si cozzoviglia tutto è nero tutto induce al male e attenti ai papà e alle mamme alla televisione state attenti a selezionare i programmi perché attraverso i programmi i nostri bambini imparano a parolacce imparano a parolacce e dicono queste parolacce al papà e alla mamma come se fossero dei regali lo spettacolo cessa ma la parolacce è rimasta l'idea è rimasta e questi bambini crescono maliziati non più innocenti come prima state attenti dove comprate nei negozi dove la niège mette sempre il suo marchio dove ci sono delle figure di horror sia nelle camicette sia negli slip maschili e femminili è uno scempio attraverso cui il nemico entra e fa danno tutto questo a proposito di questi ragazzi che sono venuti per chiedere aiuto il resto potete leggerlo e allora fratelli e sorelle rimettiamoci nella via della luce e limitiamo la via della tenebra il Signore ci lascia liberi la via del bene e la via del male la via del bene conduce la vita la via del male conduce alla morte dice la scrittura adesso leggiamo le poche intenzioni di preghiera e continuiamo nella Santa Messa e vogliamo invocare il nome di Gesù perché il nome di Gesù deve accompagnarsi sempre il nome di Gesù che significa la persona di Gesù anche la nostra preghiera è fatta nel nome di Gesù nella persona di Gesù è lo Spirito Santo che muove in noi deve scendere dentro di noi e possederci totalmente sulle spalle sulle spalle e la sbarra che è sul suo collo il bastone del suo cugino tu hai spezzato come al tempo di Madian perché un bambino è nato in Mesa noi e questo bambino è il figlio di Dio è chiamato Gesù consigliera mirabile Dio potente Principe della pace ecco fratelli e sorelle in questo momento nel nome di Gesù si spezzi il legame si spezzi il gioco che grava sulle nostre spalle perché abbiamo invocato Gesù il nome Augusto di colui che è venuto a spezzare il gioco di Madian il gioco dell'emico si spezzi in questo momento il gioco che grava sulle nostre spalle e tutti possiamo nel nome di Gesù re della pace proseguire il cammino di quest'anno verso il Padre Amen 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 Grazie.